Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come portare a termine le prove del pioniere abile che richiedono di svolgere determinate azioni su Old Sailor Island. Prima di precipitarvi ad andare a cercare sulla mappa Old Sailor Island, vi anticipo che non la troverete e a breve capirete il perché. Su quest'isola potete completare anche le prove aspirante pioniere, ma non ho fatto un tutorial perché sono comunque azioni che farete per forza se porterete a termine il tutorial, quindi non potete schipparle in nessun modo. Quindi, detto questo, vediamo come completare le prove del pioniere abile. Queste prove possono essere fatte sull'isola del tutorial. Ora, se siete nuovi giocatori, vi troverete già sull'isola del tutorial, ma queste prove sono schippabili, a differenza delle altre che le fate per forza. Queste prove, se non le fate, poi dovete ritornare di nuovo sull'isola del tutorial. Come si fa? Allora, prima di tutto, torno al menu principale del gioco. Quindi, diciamo, se è la prima volta che state giocando, vi trovate già sull'isola del tutorial e quindi le fate subito. Se invece avete già finito il tutorial, non disperate perché potete tornare sull'isola in qualsiasi momento, non dalla campagna principale, ma dal menu. Adesso vi mostro come. Vedete, in basso a destra c'è viaggio inaugurale. Dovete avviare questo viaggio che vi farà iniziare l'avventura sull'isola dove ci sono le prove da completare. Quest'isola non c'è nel gioco, quindi non è che magari fate la campagna principale e la cercate sulla mappa. Non c'è, non ci potete arrivare. L'unico modo è attraverso il tutorial. In questo video vi spiegherò come prendere un pesce su quest'isola, cucinare un pollo o un pesce con il falò, trovare una barca a remi e farvi sparare dal cannone della nave naufragata su quest'isola. Ok, allora, iniziamo il tutorial. Allora, il pollo si può fare quasi subito appena il pirata ci consegna l'arma, quindi dobbiamo ascoltarlo per forza per poter prendere l'arma. Allora, per non farvi perdere tempo, ci rivediamo qui tra poco. Rieccomi, adesso che ho la lama, posso fare la prima sfida. Quindi, uccidete un pollo, prendete la carne che rilascia, andate qui e la posizionate. Attendete un po', non troppo, dopodiché la prendete e la mangiate. In questo modo fate la prima sfida, cioè quella che richiede di cucinare un pollo o un pesce su quest'isola. La seconda sfida è quella di trovare una barca a remi. La barca a remi è molto semplice da trovare, si trova qui. Quindi andate all'inizio dell'isola, andate sulla destra, qui, e in quella grotta troverete la barca a remi. Per completare la sfida non vi basterà trovarla, ma dovrete salire sulla barca a remi e guidarla per pochissimo tempo, quindi non dovete farvi un giro lungo. Quindi, ricapitolando, dall'inizio dell'isola dove c'è la nave, andate qui, entrate nella grotta e troverete la barca a remi. Ci tengo di nuovo a sottolineare che queste prove possono essere schippate se non le fate. Quindi ecco la barca a remi, salite sulla barca, guardate qui, usate i remi. Il mio consiglio è di girare la visuale in questo modo, riuscite a muovervi facilmente. E una volta che avete fatto, diciamo, pochi metri, la prova sarà completata. La terza prova è quella di farvi sparare dal cannone della nave naufragata. Molto semplice, adesso vi mostrerò dove andare e cosa fare per completarla. E poi abbiamo l'ultima prova, che è quella di pescare un pesce, ma per quello, diciamo, dovete proseguire il tutorial fino a quando non avrete la canna da pesca. Anche quella sfida o prova può essere schippata, perché non la richiede il tutorial, quindi può essere schippata. Tornate qui dal capitano e entrate nella foresta dove avete cominciato il tutorial. Arrivate qui in alto, andate qui, salite le scale, camminate sul ponte e usate le scale per andare al piano superiore. Altre scale, altre scale. Una volta che siete arrivati in cima, salite queste ultime scale, vi è il cannone, avvicinatevi al cannone per entrare e sparatevi. In questo modo, diciamo, completerete la prova. Per l'ultima prova ci rivediamo qui tra poco. Allora, una volta che avrete preso la canna da pesca, richiamate la ruota, scegliete la canna da pesca e lanciate la lenza in acqua, anche senza mettere nessun verme, perché in Sea of Thieves pescherete pesci anche senza esca. Ovviamente con l'esca avrete la possibilità di catturare i pesci più sostanziosi, prelibati e leggendari, ma senza esca potete pescare lo stesso. Come si pesca? Dovete lanciare la lenza in acqua, attendere che il pesce abbocchi, comparirà dal nulla il pesce, a volte, diciamo, ci vuole più tempo del previsto. Eccolo, vedete? Una volta che il pesce abbocca, non dovete tirare subito la lenza, perché altrimenti rischiate di spezzarla. Quindi dovete muovere lo stick analogico, se giocate su console come nel mio caso, nella direzione opposta al pesce per farlo stancare. Una volta che il pesce si ferma, allora potete tirare la lenza. Dovete fare questo fino a quando il pesce non, diciamo, viene pescato. E quindi completerete la prova. Vedete? Adesso il pesce si è fermato, quindi posso tirare la lenza fino a quando poi il pesce si muove di nuovo e in questo caso, diciamo, dovete fermarvi. Ora io non l'ho fatto, però, insomma, per completare l'ultima prova dovete pescare semplicemente un pesce sull'isola del tutorial.